Siamo quasi in fiamma, ma di qua nessuno si sposa, ma chi si sposa è il programma, è il programma perché è la prima volta che noi ci sposiamo a porta, porta i soldi, torniamo a noi, allora ci sposiamo tutti quanti insieme, è la prima puntata di 3 music estate, quindi non mancate, è il collegamento, si vede lei che è già tutta bella, Siamo scendendo, stiamo andando in palestra, rivedremo al costume, c'è anche una componente relazionale che si serviva, e niente, quindi vi attento a... Sì ma non hai detto però chi viene, ci ho detto, perché aspettavo sempre che allora la collaborazione di Cirocai non solo sta alla console e alla registrazione del programma, ma ci dice anche chi verrà. Assolutamente sì, allora, appuntamento alle ore 18, quindi qui la arriverà a fermo, perché ospiteremo a Tonia Cestari, questa giovanissima cantante che abbiamo avuto modo di vedere, apprezzare, avremo tante domande da farle, parleremo anche della sua carriera, da emergente, che però nasconde tante belle sorprese, perché comunque ha fatto altre belle cose già, quindi insomma venite a trovarci e vi aspettiamo. Allora, per la prima volta, vai.